Iscriviti al canale! Riso al pesto No, non si fa Non si fa da nessuna parte Riso al pesto Non avevo voglia di farmi il riso in bianco Eeeh Sette nuovi avversari Diamo inizio alle danze Eeeh, Windike, ecco, come ti devo rispondere? Da te ci aspettiamo solo build APM Questi primi lasciano un po' l'amaro in bocca E vabbè, allora non vi accontentate mai, però, eh Buona battaglia! Stamattina col pestello mi sono messo lì Za, 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 za Mentre accompagnavo la bimba all'asilo in macchina Ci avevo, eh, il volante con una mano E con l'altra Il pestello Insicurezza Allora, ho cotto il riso, diciamo, alla... Come si deve fare? Cioè, con l'acqua giusta Che poi si... Cioè, senza buttare l'acqua, ok? Quindi, ehm... Hai buone possibilità di vincere È rimasto bello... L'ho lasciato anche un po' lasco Un po' bagnato E quindi poi il riso si è amalgamato Ha fatto una sorta di... tipo cremina Non è venuto male davvero, eh? Sono soddisfatto Non è ancora finito Tua moglie lavora, fa un lavoro pensante Torna a casa a fare la madre E tu non le prepari nemmeno un prezzo completo Io sono tornato... Davvero io oggi sono andato a prendere mia figlia All'asilo alle 4 e mezza Ho lavorato fino alle 4 Poi sono andato Sono andato a prenderla L'ho portata al parco Eravamo al parco Mi chiamano i miei genitori E mi fanno Siamo in mezzo alla strada C'è se avevi qualcuno che ci porti a casa E quindi io sono partito con la macchina Ho fatto due ore di viaggio Costava meno prendere un taxi I famosi taxi 50 chilometri Un taxi Non siamo... Dove... Non c'è Erano in mezzo a una strada Aum... Cazza fa A mezzo a un cavalcavia Però ci sai fare Mettiamo dei servitori migliori Troppo bello level up qui Faccio la top 3 Allora tanto Allora il pesto In frigo Deve essere Nel frigo Se provate a prendere un pesto Che non è nel frigo State già sbagliando tutto E... E poi non lo so Di mezzo Dai supermercati Se prendessi Long Johnny Buff E air chair Allora Anche i miei lo fanno Viva Windark Ma il pesto È carogna C'è il basilico Soprattutto Il basilico per il pesto È carogna C'è nel senso Deve esserci caldo Tipo in Garfagnana Non cresce un ottimo basilico È stato inserito Stasera Perché va troppo freddo Il Garfagnana Per il pesto C'è questo Non è quanto mi piace Sniper Sì poi Sì sì Col pestello Ragazzi C'è una roba Cioè Figo È chi fa il pesto Col pestello Però Lo fai col febillatore Va bene uguale Qua la questione è Se prende lui Travolate i pebbiocchi Sì 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 Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Non sapei Ti ha quotato Ma è molto bravo Perché io qua perda Dio mio davvero Quello c'è Gascoile Quale cazzo Come fa davvero gascoile Come fa davvero gascoile Cosa ne pensi Dell'astrioli Tra i fosi fiorentini Confronti della Juventus Io tutte ste rivalità Me L'ho sempre fatto Molto specie Mi è mai fregato una mazza Ma il lombeando va preso Dove ne faccia anche HP adesso L'ho u sola Ho upendoservice Senza il ciclante Ce n'è Samp Attrezzo da gentinaggio preferito Lavanga La batalla La batalla Bella scelta Molto tattica Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il disturbo Siamo La batalla 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 Buongiorno La batalla Un servitore in meno, una moneta d'oro in più Quello farà un bel po' di danni Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il distruttore Anche a me non piaceva, eccoti una moneta d'oro per il distruttore Vai Questamente Non lo so Potrei togliere Long John Che ne pensate? Il mio pezzo migliore, il problema è quello E' il mio pezzo più grosso Oh ma Io che pensavo di mince Mica l'ho capito se hai scalato tanto Non lo so, è la scalerò che era Aspetta che vorrei livellare, ma è difficile livellare Cioè è difficile, basta cliccare Ora si che si ragiona E' proprio questo Sempre meglio avere qualche servitore da giocare Non è il più forte, ma combatterà con onore Non è il più forte, ma combatterà con onore Un servitore in meno Una moneta d'ori Non è il più grande Oh, ah, sì! Vabbè, grossi siamo grossi Mediamente in realtà Non siamo neanche così tanto grossi E' di dodici Il demoni demoni è buono E' perchè non gliela toglie Se nell'ultimo fight ce l'aveva Ce l'aveva sempre E' un bel lavoro Mantieni la pressione Assolda pure una di queste recluse Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Ehi, stai davvero creando una grande armata Mi sembra che si aspetta a me Anche a meno Reggio a soldare una recluta 3 a 0 600 gol Ehi, stai davvero creando una grande armata Quanto non aveva trovato niente da Uno degli elementari nello shop Quella te è avviva Oh, stai stai Upsi Ciao cocodrillo Che si toglie? Cosa è lui? Però lui è scudo Guarda è molto forte Ma non mi viene da rubare, no? Questa HP è un po' inutile Secondo me è bene tenere doppia strega contro i demoni Meglio assoldare una recluta Finché puoi farlo Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il discorso Anche a Valkyzar piace divertirsi Meglio assoldare una recluta Mi piace il tuo modo di pensare Tidididiii Hai il video con gli elementari nuovi e quello con le bestie Hai visto? Che bellezza Che bella te hai Si salvea mica Andando a chi salva 6, 10, 15, 21 Lui ha 22 Che palle Mi concede Mi concede Mi concede Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì.